Non ti sei stancato di vivere in albergo? Stai scherzando? Io non so come fate voi a vivere ancora nelle case. Fausto Brizzi torna al cinema con la storia di una trasformazione. Che fa? Vi sto facendo licenziore. Adesso metto in modalità aereo. Pronto a godermi un bel viaggio in first class. Lillo e Dino a Brescia sono due addetti alle pulizie in aeroporto ed entrano per caso in possesso del cellulare del ricco Gardini, interpretato da Paolo Ruffini. No! E adesso che succede? Io voglio il mio telefonino! I destini dei personaggi quindi si ribaltano. Ruffini si trova bloccato su un aereo diretto in Australia, disperato perché il telefono contiene numeri e soprattutto conti cifrati. Tra quanto arriviamo a Sydney? 16 ore e mezzo. Si può scendere prima? Mi sembra un tram? Per i due addetti alle pulizie la vita cambia e si aprono le porte del bel mondo con la possibilità persino di duettare con Sabrina Salerno che nel film è uno degli idoli di sempre di Lillo. Lui va in Australia, no? Scrive un tweet contro gli australiani. Non sono stato io, mi hanno rubato il telefonino! Dietro un soggetto a essi le modalità aereo nasconde qualcosa in più. Il cambiamento infatti non è fine a se stesso ma positivo. Ruffini impara cosa conti davvero nella vita. Chi sono? Lei è Sabrina Salerno. Lui? Oddio! Non riesco... E fare uno sforzo? E... Modalità aereo è un felice ritorno al cinema per Fausto Brizzi fa sorridere ma alla fine è anche un film sull'amicizia e in qualche modo contro la maldicenza. Forse il malo del regista di rispondere alle polemiche che lo hanno riguardato nei mesi scorsi. Sicuramente è una pellicola divertente per tutta la famiglia che avrebbe potuto trovare una sua collocazione anche più adatta magari nel periodo delle feste di Natale. Oh ma se uno ha in mano il tuo telefonino se non è il tuo miglior amico lo diventa!